Bene, clip social, oggi vogliamo parlare di una cosa molto interessante, insomma a me viene in mente che tutto quello che noi mettiamo dentro, ciò che mangiamo, si riflette nel nostro fisico, cioè quello che mettiamo dentro poi viene fuori. C'è tanta confusione, poi io ho 60 anni e sono abituato a capire le cose quando ce le diceva un po' la televisione o i mezzi di informazione o addirittura delle riviste che parlavano di quella tale tematica e quindi ci si informava. Oggi invece con i social c'è veramente tantissima informazione ma tantissima confusione, pensate è un po' come i telefonini, ci sono tantissime macchine fotografiche ma non ci sono più fotografie. Insomma credo che i giovani non soltanto siano invasiti da una grande marea, una veramente miriade di informazioni ma alle volte non si sa mai quale sia l'informazione o giusta o autentica. Intanto siamo con il dottor Andrea Zonza, grazie per essere con noi dottore. Ciao Nicola. Allora tu sei di Cagliari se non sbaglio, vero? No, di la verità sono di La Maddalena che è un'isoletta nel nord Sardegna però poi trappiantato a Cagliari. Ecco io parlo dei social perché a 60 anni sai un po' forse potrebbe essere il tuo papà però sui social oggi c'è un grave rischio ed è quello un po' delle, permettimi questa parola, delle minchiate, dicono di quelle cose esagerate o delle persone che conosco che si sono affidate addirittura ad alcuni che poi senza niente parte si arrogano il diritto di essere nutrizionisti, dietologi eccetera e i benefici li hanno perché addirittura tante volte perdono anche peso. Ma allora la domanda che io ti faccio è questa, intanto arriveremo a capire se questi sono veramente cialtroni o a chi affidarsi e poi perdere peso vuol dire anche perdere come si perde il peso. Esatto, il problema effettivamente sta proprio là, nel senso che qualsiasi persona prendiamolo tra virgolette potrebbe farti perdere del peso, il problema è la qualità del peso che tu stai andando a perdere. La maggior parte delle persone fa un errore, cioè quello di salire sulla bilancia, leggere il numero e o essere felice o preoccuparsi. Ok, pochi ragionano, lo fanno in linea di massima soprattutto gli atleti, però tra virgolette nel senso buono del termine, la persona comune si limita al numero, ok? E non si fa una domanda importante, come è fatto il mio peso? Cioè qual è la mia composizione corporea? Perché c'è scritto quel numero? È tutto grasso? C'è anche massa muscolare? Ci sono liquidi? Il rapporto effettivamente massa grassa, massa magra è buono? Quindi ci si limita a questo aspetto e lì nascono poi tutta una serie di problemi che vanno a sfociare nell'affidarsi ai famosi santoni che magari ti promettono dimagrimenti flash in 5-10 giorni, un mese, nasce tutto da lì. Quindi c'è un errore di fondo in buona fede che poi effettivamente sta a noi informare e formare le persone e cercare di fargli capire che il modo corretto di lavorare non è quello di affidarsi al primo che capita al picco pallino di turno che ti promette una discesa di 10 kg in 5 giorni, ma è un lavoro più certosino, studiato. Noi siamo molto attenti, se dobbiamo cambiare macchina, di andare con quel tale venditore, dobbiamo conoscere, non ci fidiamo, siamo sempre molto guardinghi. Quando si tratta del nostro corpo, tante volte facciamo spallucce e ci accontentiamo di quello che parla per primo. Ma mi viene da sé che il mondo dello sport non è poi tanto diverso a livello proprio emotivo, anche di sensazione, dal mondo civile, perché è chiaro che la parte debole nel mondo civile sono le donne, specie in questi periodi devono calare peso perché devono mettersi in costume da bagno, ma è altresì vero che lo sportivo deve calare tanto peso perché poi deve fare delle performance importanti. Sbaglio oppure forse no, non lo so, lo chiedo ai dottore. Se io faccio una cura a faiate o vado da un ciarlatano e se mi mancano, e io non lo posso sapere degli eccipienti, mi posso mancare il potassio e mi affatica il cuore, cioè se io mi mancano degli enzimi, delle proteine, non posso saperlo subito. Quindi vado anche a rischio di compromettere in maniera, ma anche a volte in maniera gravissima alla mia salute. Sì, purtroppo sì, purtroppo è proprio quello il problema. Adesso da poco, per fortuna, è uscito un decreto legge che proprio dovrebbe regolamentare e cercare di arginare questo problema dell'esercizio abusivo della professione. Quindi ora io non voglio fare di tutto all'erba un fascio, lungi da me, però purtroppo molto spesso si sente nei vari centri fitness, nelle palestre o comunque negozi vari che si occupano dell'integrazione sportiva, ma soprattutto purtroppo i personal trainer, non tutti, ripeto, ribadisco questa cosa, che danno anche degli schemi alimentari, dei consigli, delle diete. Ora questo per legge è assolutissimamente vietato. Non si può fare, in teoria io non potrei dare... Non si dovrebbe fare, poiché si può, si può perché tanti lo fanno, non si dovrebbe. Senza titolo non si potrebbe dare neanche un consiglio nutrizionale, ok? Poi addirittura formulare una dieta e consegnarla al paziente senza conoscere la sua storia, senza avere un'idea della sua anamnesi, se ha intolleranze, se ha allergie, se ha patologie di base accertate, è follia pura. Quindi il primo consiglio che si dà alla persona che deve andare a fare una dieta è avere comunque un esame del sangue. Avere gli esami ematici, quella è la base, ma soprattutto se io prendo un appuntamento da uno specialista o da un presunto specialista, richiedere, ovviamente non il titolo, non pretendo che venga mostrata la pergamena, però ognuno di noi ha un tesserino, un'iscrizione all'ordine nazionale dei vari enti, richiedere quel tesserino e dire io sono abilitato alla professione, sono il dottore X iscritto all'albo professionale, posso esercitare questa professione, lo posso fare. Lo fanno per le caldaie, dottore. Quando arriva quello che mette a posto la caldaia viene col tesserino. C'è un problema di educazione di base. Educazione, ma non ce n'è. Ma detto questo, noi vediamo, in tema di doping c'è tanta confusione, tanti volte dicono ma vengono beccati, abbiamo visto anche qualche calciatore che non sa il perché, il per come e quindi io sono un liberale e soprattutto sono la persona che mai dà giudizi fin quando il giudizio è certo. In Italia il giudizio è certo che è oramai un miracolo, ma è pur vero che in questa grande giungla di internet tutti, e quello che mi dispiace è anche le fasce più deboli, quelle da proteggere che sono i ragazzini, possono comperare dove vogliono in altri stati, dove non ci sono delle leggi così rigide come nel nostro paese e quindi tante volte portiamo a casa dei, pensiamo, degli integratori che all'interno vengono nascoste delle cose. Mi capita sempre più spesso, anche alcuni miei pazienti, atleti che seguo, si presentano molto spesso in studio chiedendomi informazioni su determinate tipologie di prodotti di cui non si conosce esattamente la composizione e la formulazione. Come hai detto giustamente tu, per fortuna in Italia abbiamo delle norme molto restrittive e stringenti per questo aspetto, quindi abbiamo un obbligo ben preciso per quanto riguarda la composizione, la formulazione dei prodotti e che deve essere ovviamente... L'etichettatura, certo. Assolutissimamente chiara, quindi non deve essere assolutissimamente fuorviante per il cliente, per il consumatore, addirittura nel packaging, cioè nell'aspetto esterno di una confezione, nelle scritte, nelle decorazioni, deve essere tutto perfettamente regolamentato. Questo purtroppo all'estero non è così, quindi può capitare molto spesso di acquistare prodotti di cui non si conosce l'esatta provenienza, di cui non si conosce l'esatta composizione, con delle spiacevoli sorprese, soprattutto su alcuni atleti che poi sono agonisti, quindi si ritrovano magari nelle analisi e in alcuni controlli componenti che... E loro dicono, ma tribio, ho comprato un integratore, so che non fa niente e invece... E' un trend molto preoccupante, per l'atleta perché potrebbe andare a rischio chiaramente di squalifiche, ma credo che anche certi prodotti, certi eccipienti a dei ragazzini di 15 anni possano far male per lo sviluppo e per questo che vorrei fare chiarezza, prodotto italiano che sia un prodotto serio e sappiamo, è un consiglio a coloro che vanno ad acquistare questi prodotti che abbiano per lo meno il buon gusto e la serietà di quando vanno a acquistare una macchina. Assolutamente sì, io consiglio prima di tutto, nel momento in cui si decide di affrontare un pieno di integrazione, cioè di farsi preparare un pieno di integrazione e di affidarsi a uno specialista che deve appunto scegliere o consigliare gli integratori giusti e funzionali per quel tipo di attività, per quel tipo di allenamento, per quel tipo di carichi e che vadano bene per quella persona, ok? Quindi dopo aver visto le analisi del sangue, dopo aver fatto uno studio del caso, insomma a 360 gradi dopo aver studiato il soggetto o l'atleta o la persona anche comune, l'amatore oppure semplicemente la persona che vuole perdere peso e basta, non gliene può fregare di correre o di fare questi grossi sforzi. Quindi anche questo aspetto di comprare per forza a tutti i costi su internet perché me lo ha consigliato l'amico, perché me l'ha consigliato l'istruttore, perché costa meno, ma va a scapito della mia salute, cioè se io compro un prodotto di qualità scarsa perché invece di spendere dieci, spendo cinque e ne compro due chili in più, ma poi mi crea... Guarda la stessa regola dell'olio di oliva, dai! È inutile, cioè è una cosa abbastanza stupida. Altre cose stupide che, vabbè, non c'entrano qua nulla in social, ma vorrei proprio chiudere questa piccola puntata che speriamo che la possano guardare in tanti perché credo che sia interesse per tutti, sempre se andiamo a proteggere le fasce deboli. Io vedo tanto nelle scuole come anche in tanti posti pubblici che ci sono questi grandi distributori dove dentro c'è di tutto, purtroppo. Allora c'è un'interrogazione che sta diventando addirittura un'interrogazione parlamentare perché in Italia abbiamo visto i bambini non praticando più nessun quasi tipo di sport c'è proprio il rischio di obesità. Però certo che questo non è sufficiente, già non facciamo sport, già li riempiamo di queste merendine che per tutto il rispetto, non dico che facciano male, ma contengono veramente grassi, contengono zuccheri. Non sarebbe meglio anche qua pretendere, io genitore, nel plesso scolastico dove vado dire guarda ci sono le merendine, ma mettiamo anche qualcosa, ma non perché voglia fare pubblicità a ProAction o a chiunque altro che non me ne può fregare meno, però mettere qualcosa che se io vado a leggere, che non ci siano zuccheri, che non ci siano cose che vadano ad inficiare anche la mia crescita, perché se io mangio tanti grassi anche il bambino diventa più lento cognitivamente. Le statistiche infatti adesso purtroppo per quanto riguarda l'obesità infantile ci mettono tra i primi posti, eravamo gli ultimi, i grandi padri della dieta mediterranea, abbiamo perso queste posizioni, i nostri ragazzi adesso stanno diventando sempre più, passami il termine, pesanti, quindi questa obesità, il diabete, il diabete anche infantile, insomma non siamo assolutamente... È un'emergenza, bisogna capirla. E i distributori automatici non... Non aiutano. Non aiutano. Io seguo diverse squadre di nuoto, quindi frequento un po' l'ambiente anche delle piscine, è una cosa che ho constatato molto spesso, è che nella grande maggioranza delle piscine abbiamo questi distributori automatici dove all'interno puoi trovare dagli snack di vario genere, le patatine, le lattine, le bibite zuccherate, cosa che in teoria un atleta che fa un determinato tipo di allenamento in quel momento... Non farlo, hai fatto un'ora di... Non fa... Ti sei fatto un culo grazie e poi dopo... Quindi secondo me Nicola di base ci dovrebbe essere un buon progetto in tutte le scuole, alcune lo fanno già per fortuna, di educazione alimentare. Educazione alimentare mi manca, mi manca tanto l'educazione fisica e aggiungerei anche dottore educazione sentimentale. Questi ragazzi che oramai non sentono più nulla se non il contatto con un computer e quindi i divisus fanno più poco e quindi credo che si stia staccando, una società che si stia proprio lacerando su se stessa. Io la ringrazio per questi consigli e le auguro un buon rientro nella meravigliosa Sardegna e speriamo di averla ancora qua presto per alcuni consigli perché credo che la gente abbia bisogno di informazione. Sempre molto volentieri. Grazie dottore. Grazie a lei. Grazie a lei.